Da una parte il diritto alla salute, dall'altra quello dei lavoratori, in mezzo oltre una ventina di agenti delle forze dell'ordine, un furgone della polizia e tre ufficiali della Digos. Tutti presenti stamani davanti alla sede del Tribunale Amministrativo di Salerno in Largo San Tommaso d'Aquino, dove una delegazione del Comitato Salute e Vita e un'altra corposa dei lavoratori delle fonderie Pisano attendevano il risponso dei giudici in merito al ricorso presentato dalla proprietà delle fonderie al decreto di sospensione dell'attività emesso dalla Regione Campania. Sempre stamani 120 famiglie della Valle dell'Irlo hanno presentato sempre al TAR un ricorso ad Opponendum. A distanza di una ventina di metri le ragioni degli uni e i diritti degli altri. Abbiamo ascoltato Lorenzo Forte, Presidente del Comitato Salute e Vita, ed Angelo Clemente, rappresentante sindacale unitario dei lavoratori delle fonderie Pisano. Oggi noi abbiamo 121 famiglie che hanno sottoscritto ad Opponendum il ricorso al TAR per chiedere l'immediata chiusura delle fonderie, rappresentate dall'Avvocato Franco Massimo Anucita, insieme al Comune di Pellezzano e il Comitato Salute e Vita. E' paradossale che oggi qui ci siano i lavoratori dall'altra parte. Noi avremmo sempre voluto, l'abbiamo detto da sempre, che i lavoratori e i cittadini sono vittime di una politica complice che non è stata capace di trovare risposte e di soprattutto un imprenditore disonesto che dal 2004 inquina e continua a farlo. Ci aspettiamo che si faccia giustizia innanzitutto e si garantisca il diritto alla salute prima di tutto. Noi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di avere la possibilità di continuare a lavorare perché attualmente non è solamente questo tipo di incontro di questa mattina, attualmente stiamo facendo tante cose come azienda. Stiamo cercando un terreno, l'abbiamo trovato, abbiamo fatto un progetto, l'ho messo pure qui per farlo vedere. Stiamo lavorando per avere un revamping dell'AIA, sembra che le cose siano andate bene. Abbiamo preteso dall'azienda di mettere sui cammini una centralina che fa il monitoraggio H24 delle emissioni, un'altra centralina per vedere la qualità dell'area. Questi dati di queste centrali saranno visibili a tutti perché saranno pubblici. Stiamo facendo tante di quelle cose e vogliamo fare tante di quelle cose per poter arrivare all'obiettivo finale che è quello della delocalizzazione. Da parte il diritto al lavoro, sacrosanto, dall'altra il diritto alla salute. Sì, e noi oggi abbiamo la possibilità di salvaguardare tutte e due le cose. Si parla tanto della desertificazione delle aree industriali, ma è possibile che una ponderia 4.0 di nuova generazione, con tanto di garanzia a livello europeo, non c'è un paese che dicono che hanno il tasso giovanile della disoccupazione del 50-60%, che dici vieni qua, prenditi a lavorare 50 persone, 60 ragazzi. E allora non scherziamo.